Prego, prego, venite. Come sapete vi ho convocati per presentarvi la nostra arma segreta. Il nuovissimo Peugeot Expert, equipaggiato con motore blu HD Euro 6 da 180 cavalli e con spazio ultramodulabile, fino a un volume di 6,6 metri cubi. E ha anche un accesso segreto. Adesso tocca a voi. Nuovo Peugeot Expert, pronto per ogni impresa. Peugeot. Mister, esordio con vittoria, assolutamente meritata, anche una buona prestazione perlomeno nel primo tempo e a tratti nella ripresa, credo il miglior esordio che lei potesse immaginare. Beh sì, obiettivamente era una partita molto importante, difficile, settimana, cambio allenatore. Devo dire che le sensazioni che ho avuto questa settimana i ragazzi fortunatamente le hanno dimostrate loro in campo. Sono contento della prestazione, un'ora di buon calcio, poi subentra un po' di stanchezza, un po' di paura. Si perdono le distanze, qualche giocatore viene da una settimana comunque differenziata, quindi qualche allenamento saltato. Qualcuno viene comunque da un periodo di inattività, quindi non era facile mantenere 90 minuti questo livello. Anche perché poi di fronte c'era una squadra che comunque viene da un buon momento, ha qualche giocatore secondo me di grandissima qualità come è coronato quando è entrato e quindi nel momento in cui tu sei un po' più stanco lui può sovvertire qualche giocata importante. Ecco, probabilmente, visto il palo di Meccariello sul 2-0, una palla goal dove per una frazione di secondo Monagallo non è arrivata al tapin vincente, la palla goal di Palommini alla ripresa, la Ternana senza nulla togliere al buon ingresso in campo di Coronado dall'altra parte avrebbe meritato di vincere con due gol di scarto. Forse il 3-1 avrebbe fotografato più correttamente l'andamento del match. È un dettaglio però, insomma, e soprattutto la squadra non avrebbe meritato di subire gol. Ecco, questo sono d'accordo, nel senso hanno fatto una grande partita di attenzione, mi è dispiaciuto molto a me prendere gol, mi dispiace molto perché la squadra ha veramente lavorato bene. Fortunatamente non ci è costato nulla sotto il profilo dei punti, però lavoreremo proprio per migliorare anche questa attenzione. Sia Di Noia che Pedriccione che sono venuti qui a parlare prima di lei hanno detto che il ritiro gli ha servito molto, soprattutto per dare serenità allo spirito, quindi al gruppo, ma anche per amalgamarlo. Quindi hanno fatto giustamente un applauso anche a lei che ha dato questi valori ai ragazzi. Ma io vengo da questo sport da sempre, quindi reputo che questo è uno sport di gruppo e obiettivamente, oltre alle qualità che devono esserci dentro un gruppo, bisogna sempre pensare a noi, a prescindere dalla qualità dell'individuale che esalta poi questo noi. Questo è quello che sto cercando di trasmettere, non so quanto riuscirò da qui alla fine a trasmetterlo per tutte le partite, però è un mio credo veramente importante. Io penso che non è il singolo che esalta il gruppo, ma è il gruppo che esalta il singolo. Oggi lo hanno dimostrato e spero che possano dimostrarlo con continuità. Tutti bravi, però due cose non hanno funzionato. Monachello, che si è dannato l'anima, probabilmente non ha aggredito la profondità come lei avrebbe desiderato, pur mettendo sul tavolo grandissima generosità e assoluto impegno. E la squadra forse non ha interpretato nel modo in cui avrebbe dovuto la sua scelta nel finale di ricorrere al terzo marcatore centrale. Cioè, anziché aggredire più alta, si è abbassata. Allora, Monachello è un giocatore che viene anche lui da poche partite in questa stagione, quindi non poteva avere una briosità, una qualità e una serenità oggi importante. Però sotto il profilo della generosità, del voler aiutare la squadra, è stato incomiabile e ha avuto anche l'occasione per fare gol. Sicuramente il cambio della difesa a tre è stato un mio errore, perché non l'abbiamo provato in settimana. L'obiettivo era proprio quello di accorciare con grande intensità e avendo una copertura sempre di superiorità in avanti, probabilmente non avendolo allenato, non è passato questo messaggio e quindi abbiamo preso gol, essendo pure in grande superiorità numerica. Ecco, forse con il senno del poi non era meglio sistemare la squadra con un 4-4-1-1, un 4-4-2, quindi per mantenere, diciamo così, l'equilibrio in campo, come dicevamo prima, si è un po' snaturata la squadra. Poteva essere tutto giusto, devo dire che non ho cambiato Zanon, anche se era in non perfette condizioni, allora avevo messo proprio per questo un giocatore più aggressivo, per far sì che Zanon poteva essere un po' più sereno. Avrei dovuto togliere Zanon, infortunato, ma non avevo nessun terzino di ruolo, quindi avrei dovuto fare tre problematiche, cioè cambiare un giocatore, metterlo in un ruolo non suo, devo adattarlo e rimanere a quattro, dove loro con il portiere esprimamente mettevano tutte queste palle dritte e magari potevano crearci un po' di difficoltà. Però sicuramente, come ho detto ai ragazzi, il gol è più colpa mia che loro e ci lavoreremo questa settimana proprio per far sì che in campo, se dovessimo cambiare qualcosa, siamo più preparati grazie insomma al lavoro. Alla vigilia pensavamo, ma è congetturale perché lei non ci ha rivelato i suoi dubbi, ci ha detto solo, ho un dubbio per reparto, che potesse esistere un ballottaggio tra Diachite e Meccariello. Non sappiamo ancora se questo fosse vero, in ogni caso Meccariello ha fornito un'ottima prestazione e accanto a lui Valiant, tra l'altro invertiti rispetto al solito, quindi Valiant centro-destra, Meccariello centro-sinistra. Sì, per me sono due difensori centrali, con Diachite e il terzo si giocano due posti. Poi Giammasi quando tornerà? Quando tornerà, oggi parliamo di quelli sani. Sì, quello è il ballottaggio, ho scelto loro due. La scelta centro-sinistra e centro-destra, ne ho parlato con loro, ho preferito di farla così e per me secondo me la serenità dei giocatori mi cambia poco e quindi li ho messi come desideravano loro. E con gli altri due dubbi, sempre in conferenza, aveva parlato di centro-campo, quindi credo sulle mezzale e poi la seconda punta, quindi Monachello e credo Pettinari. Quindi se ce le spiega le sue decisioni? Sì, i dubbi sono questi, non male che in cinque giorni per me diventa difficile, ho bisogno di tutti e quindi cercavo di valutare. Ho scelto così perché questi cinque giorni ho avuto queste sensazioni, ma come ho detto a loro questa è una squadra che avrà bisogno veramente di tutti, ma non per modo di dire. Sono sicuro che avremo bisogno di tutta la rosa proprio nel cambio, perché come avete visto voi, l'ultima mezz'ora delle difficoltà e tante volte i giocatori che entrano dalla panchina sono quelli più importanti che cambiano il destino delle partite e quindi oggi coronato per il Trapani ti fa vedere che mezz'ora dalla fine, 35, cambia la partita e quindi questo per noi deve essere anche un esempio, essere arrabbiati se non gioco dall'inizio ma sapere che 30-35 minuti posso cambiare le sorti della partita. Una curiosità che ho notato, soprattutto per quanto riguarda il riscaldamento dei panchinari, insomma dei ragazzi che sono in panchina, è che lei li fa scaldare a batteria da 3 ogni 10 minuti, quindi per mantenere comunque sempre freschi, insomma pronti via i ragazzi, credo, insomma adotta questo metodo. Sì, adotta questo metodo perché tante volte succede che dei giocatori in panchina, c'è un infortunio dopo 20 minuti, il giocatore si deve alzare velocemente, non è pronto, non è caldo e rischiamo di fare il doppio infortunio. Credo che a turno 3 alla volta fare un po' di stretching e un po' di corsetta per tenere comunque già vive le gambe per ogni evenienza, per ogni probabilità di infortunio, come è successo poi con Dinoia che all'improvviso doveva uscire, se io non avessi fatto alzare mai i centrocampisti diventava un altro rischio fare entrare uno a freddo. A proposito, le condizioni di Dinoia, anche se immagino che sia a botta calda sia difficile fare una valutazione precisa? È un affaticamento muscolare, non ha sentito strappi o tirare, lo va valutato entro 48 ore. Sissoko, pensavamo che fosse in lista per una maglia, lo immaginavamo in subordine in panchina, in tribuna, scelta tecnica, un problemino fisico dell'ultimissima ora o cos'altro? Perché lei un attimo fa diceva giustamente, io ho bisogno di tutti, da qui alla fine un giocatore con l'esperienza di Sissoko, se si cala nella mentalità giusta e quindi con la giusta dose di umiltà, può fare comodo negli ultimi 12 partiti? Come in tutti gli altri. No, è stata una scelta in questo momento, ho preferito portare un difensore in più, però è un giocatore che sta recuperando, non ci sono grandi problematiche, vediamo insomma da domani come possiamo già cominciare a pensare a Cesena. La gestione di un giocatore con questo curriculum può essere complicata se non trova spazio oppure si tratta semplicemente di fargli capire che insomma arriverà il suo momento quando sarà in una condizione accettabile? No, io penso che a livello di rispetto io devo darlo a Sissoko come all'ultimo ragazzo che si allena, questo essendo una persona molto realista. Poi è normale che il curriculum, le qualità e il giocatore Sissoko sono importanti, quindi uno è normale che lo tiene conto perché può darci una mano. È normale che io devo valutare il gruppo sempre e non il singolo, ed è normale che io ogni settimana da qui alla fine farò delle scelte. Se lui lo riterrò opportuno e quindi ha recuperato una condizione e lo reputo importante potrebbe farne parte della partita. Se non lo reputo importante in quel momento faccio altre scelte ma solo tecnicamente. Io l'importante è che lui come tutti gli altri li rispetto nelle scelte senza mezzi giochetti o parole perché è un giocatore importante e va rispettato. Però io devo fare delle scelte su 24-25 giocatori e le faccio sempre nel piano del rispetto di tutti. Falletti lo reputo da un trequartista? Falletti è un giocatore importante, può fare il trequarti, può fare dietro una punta, deve spaziare, deve essere libero di giocare e trovarsi sui spazi. Oggi lo ringrazio anche a lui perché oltre alle qualità che conosciamo tutti, oggi ha fatto una partita di grande intensità in fase di non possesso, di grande disturbo sul trequarti. Quindi è un giocatore che oltre alle qualità che sono importanti, si ha messo in luce anche oggi, mi è piaciuto proprio lo spirito di uno che vuole aiutare sempre la squadra anche in fase di non possesso. Mister, un'ultima cosa. Se non avessimo vinto saremmo stati parole di dinoglia con un piede in Lega Pro, anche se poi 12 partite, 36 punti, insomma. Con questa vittoria la situazione resta complicata, complessa, difficile, però si può quantomeno sperare. Difficile fare a lungo termine, no? Siamo qua in questa situazione, secondo me è possibile stare a partita dopo partita, vedere quello che riusciamo a fare. È fondamentale dare continuità ai risultati, che possono essere i tre, che noi dobbiamo cercare sempre, ma anche il punto. Da qui alla fine bisogna fare i punti. Questo è l'obiettivo. Grazie, in bocca al lupo, mister.